eccoci qua amici spettatori pensate sulle note di questa bella musichetta che il nostro Mario Bianchi avete capito ci ha messo per presentare questo grande oggetto di tecnologia avete capito che è l'iPad 3 amici spettatori ecco lo guardate lo guardate ora sembra una tavoletta ma ci potete fare di tutto avete capito ci potete anche cucinare eccolo qua lo vedete nella sua comoda taschiera in versione nera e in versione bianconera avete capito eccolo in versione nera eccolo qua in versione gigantesca eccolo ed ecco in versione pavimento con una bella immagine dentro eccolo qui ancora in versione nera con tastiera avete capito eccolo qua Mario Bianchi inducia ancora eccolo lì e l'ultima immagine finale di questo fantastico strumento e bisogna pensare differente in versione per nera e per nera eccolo in versione per nero e 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 per nero e